Rieccoci questo secondo gameplay Secondo gameplay di oggi Che in realtà dovremmo fare il quarto livello Del terzo film Il Maelstrom No Quello è il quinto Io mi sto Dilettando a lanciare in giro Oggetti C'è grapple con l'ancora Quindi c'è un pezzente con l'ancora Sono serio? Vediamoci al livello Si, se ce la faccio Si siamo lì ok Il consiglio è della fratellanza Rivello lunghi Brotherhood Assassin's Creed Brotherhood Versione Eh io userò Perchè cosa? Userò questo Non so che sia Weaver, scheletro Io invece sceglierò Dammi un numero 3,2,1 Dammi un numero 74 Un trucco Un trucco Sceglierò 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 Normalissimo Gibbs Ma perché? Gibbs ci sta sempre Qua servono solo pirati E prendo uno col martello Un rubriacore Un martello per di più Mostra LOL Nave del Capitan Salsa Capitan Salsa con baffetti Che schifo La salsa con i baffetti Nessuno la vuole mangiare Che ne sai E via con la sigla Sceglierò Allora Wow Ok È tutto visitabile Biglietto Solo andata Ok Oddio ma sono uno scheletro Con la lanterna Dai capito Ah quelli sono tutti I vari capi Barra Tipo concorrenti All'essere dei pirati Nobili Pirati nobili Pirati nobili Ok Ci vuole un attimo La mia testolina Ho capito Pecchialò Scusate Ho avuto un attimo Un rap Tu si Allora Wyvern Nessuno dei due Ha la spada E servono due spade Ci penso io Ci penso Questo cos'è Il cosacco Non ci posso credere Una news Vedete quello che ho io Quello che sta a te A sinistra È Cheval Che è anche uno di quelli Che dobbiamo cercare E ha il bastone Non ha la spada Ma la usa come spada Ma la usa qua come spada E io chi sono Cioè È un cosacco Tu sei l'altro Un cosacco nero Un cosacco nero Un sacco nero Ok Mi ha fatto cadere quello Monta Trujimonta Crea il grande idolo d'oro Del panzone supremo E guadagni il tipozzo indiano Con il tormante arancione No Lui scatta semplicemente Beh però ti dice che ce l'hai Esatto Allora se sfondi la statua L'idolo del panzone indiano Secondo me ci danno un mini Chi è questa qua? È un altro Piazza nobile Donna in bonzella Ok La distruttura Io adesso sono No Uno bruttissimo Sono la sirena Sono Edwardo Bellenueva Eh sei te Eh sono io Allora Aspetta da questo lato Vedi il cartello proprio Che dice Prendete la faccia di quella La faccia di quella Ci sono quei Prendete le loro teste E portatele sulla nave Scendiamo giù prima Esatto Andiamo dritti Cattino strano con la botte Tira Aspetta Ora Ah ha cambiato anche direzione Con la catena L'ho capito ora Eh tranquillo Esce il barile Che esplode In un'esplosione nucleare Cioè lo fate esplodere No No Prendete il barile È ancora più elaborato E Credo che il barile serva per lui Per Sheval Infatti gli diversi da bere Un bel bicchiere di vino rosso Di vino trasparente Che lui agita in aria E grazie che vi averlo preso Tutto per terra Il punto che adesso Il mini kit bisogna Dici che va di fatto No è sparita la catena Allora ci vuole Il mister cercatore Allora lui cos'è che vuole? Questo? Il calice Prego Arrivi nella scuola Allora Barile No cos'è che mi serve ora? La catena Non riuscivo a passare Non mi dire che l'hai fatto Dobbiamo andare su Allora aspettiamo un attimo Vediamo cosa c'è qua Oltre a monetine a caso Ah Vedi c'è un coso È un tempietto giapponese Non ho la spada Ho la pala Aspetta che Mi mettiamo fuori Un bazooka nucleare Barba nera Poteva lanciare La magia No lui è cretino Non puoi È un po' distorto È un po' stupido Alla fine dovevo usare Barba nera Sì B Razzo Cannoni Ok mio Sfoga la tua ira Ok tu sei a destra Cosa devo sparare Ah ciao No come fai a essere Allora calmi Ma là sopra c'è anche No ma Sei un maledetto È impossibile Ok ti sto a guardare in gironzo Volentieri E l'altra torcia non appare Voleva cercarmi Tipo qua c'è una torcia scenica Che non posso fregare Torcia scenica Mi piaceva la torcia scenica Ah ciao ti vedo Lo so non è una buona Vieni qua Sott'acqua penso che non troverò Nessuna torcia Scusa ma volevo mirare te Via 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 Dove sei? No Colpici i bersagli Prima te No Come faccio a mancarti Ma come faccio a beccare quelli Così Eh Ah no quello lì era residuo C'è l'ultimo qua direi Ma non si gira abbastanza Ah perché devo andare nell'altra Ah mi ero perso scusate L'ho fatto bene Ce la faremo Ce la faremo Siamo già a sette minuti Ok ora ci sono Esci Sei il coraggio Ma sei un cartello Ok ho sentito un rumore Assai noto Sì ma io sono un cartellino Sì ma mi sa che mi dite più vicino a te Penso anch'io No ma di nuovo Non fammi tornare su brutto Cosa ho fatto? Hai preso il personaggio di mia sorella Ok grapple Ancora Scadi a fondo Qua destra vai alla destra Ma non ci va Ok liberati di quello meno Non in questo senso Non so Beh Per qualche secondo ci sarà solo lui Abbiamo recuperato un mini kit C'era un'altra cosa a cercare Eh però alcune cose mi ricordo Cioè Ecco Alcune cose so dove sono Tipo il baulone Cioè no Questa cosa qua è sopra Sì ma quello No 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 il rotondino Il tondino simpatico Quale tondino? Quel cosa? Questo? No Aspetta Toglilo Toglilo La rotellina Questa? Sì È sopra E lì come lo troviamo Eh secondo me il tondino No quello lì è un barrile Beh se vuole un barrile Vediamo anche il barrile Facciamo una cosa random Tipo bomba Tipo bomba No no ma non c'è niente da rompere lì Si vede Vuol dire che c'è qualcosa Che poi sarà da riportare Guarda il barrile che dicevo in questa direzione qua Eh infatti Di fuoco Lento 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 Colvo Colvo Due Facciamo la gara Ecco Forse serve il bowl Grazie a tutti Grazie.